Io sono Parolin Valeria, lavoro per conto di Clivet S.p.A. Siamo qua in questa settimana per parlarvi di come sia possibile semplificare gli impianti all'interno delle nostre case. Partiamo dal presupposto che si costruiscono edifici sempre più performanti, e in questa settimana ne avete parlato. È da capire se esistono di fatto impianti adatti a questi nuovi tipi di edificio. Noi in particolare proponiamo una tecnologia che è l'Elfo Pack, una sorta di aggregato compatto che unisce in sé tutte le funzioni e si concentra sul poco fabbisogno energetico che devono avere questi edifici. Per cui abbiamo una macchina che consuma pochissimo. Questi edifici realizzati con nuovi criteri hanno meno bisogno di essere riscaldati e raffrescati a prevalere l'esigenza di ricambiare l'aria interno degli edifici. Quindi noi abbiamo concepito questa macchina perché utilizzasse questo principio. Infatti noi utilizziamo gli stessi canali per il ricambio dell'aria, per portare anche il caldo, il freddo, di umidificare, trattare l'aria e nello stesso tempo produrre acqua calda sanitaria, tutto in un'unica unità. Questo ci dà una mano dal punto di vista della progettazione e soprattutto permette una totale integrazione dell'impianto all'edificio. Grazie. Grazie. Grazie.